Radio Amore Napoli Consiglia ti chiedo subito di parlarci di quella che è la manifestazione che vedrà te, potragonista, il 14 di maggio. Io sono alla Casina Pompeiana, domenica sera chiuderò la manifestazione della festa della lingua napoletana. Io credo che sia una manifestazione onestamente molto interessante e bellissima, quindi dura tre giorni la manifestazione e ci saranno vari momenti di questa manifestazione. Io chiuderò questa manifestazione appunto come dicevo, proprio domenica sera. Bene, la cosa mi piace. Il concerto si chiama 40 anni d'amore per Napoli, perché appunto è come se fosse un evento importante proprio per me, che io compio 40 anni di carriera. E diciamo rappresenti la maestranza partenopea per eccellenza, anche perché con questo concerto vuoi certificare il fatto che Napoli va vista da tutto il mondo in maniera positiva con la sua arte. Certamente sì. E poi principalmente la lingua è quella che è la cosa più importante, la lingua e la musica. Sappiamo benissimo che la musica va a braccetto con la lingua. Assolutamente sì, assolutamente sì. La musica napoletana. Bene, ci sarà qualche chicca durante il concerto? Non vuoi diciamo dirci niente? Sarà un concerto di canzoni classiche napoletane, le più note canzoni del nostro repertorio. E sicuramente insomma saranno quelle diciamo più belle che io ho scelto, sicuramente. Quelle più amate da chiunque, il suono che accompagna tante generazioni. Bene consiglia, prima di salutarci ti chiedo di invitare a modo tuo tutti i nostri radioascoltatori. Io spero che ne siate tantissimi, sicuramente sono convinta che ci sarà il pienone. Benissimo. Spero che veniate tutti. Benissimo, quindi tutti i nostri radioascoltatori siete ufficialmente invitati sia da Radio Maria Mapoli ma soprattutto da consiglia Licciardi a partecipare alla manifestazione che si terrà dal 12 al 14 maggio alla Casina Pompeiana a Festa della Lengua Nostra. E soprattutto il 14 ci sarà il concerto di consiglia. Grazie, grazie, grazie per essere stata con noi, ciao. Ciao.